Allora, vi ricordate del video che ho fatto sui 5 minuti? Su quanto durano i 5 minuti dei nostri uomini? Di mio marito, di mio figlio, anche dei tuoi probabilmente. Beh, adesso ve ne do la conferma, però... Perché lui, il messicano, non sa che sto registrando. State attenti, eh. State attenti. Mia morte, duccias! 5 minuti! Che vi avevo detto? È una conferma. Avete avuto la conferma. Questa è la risposta, ok? La risposta che ricevo sempre. Qualsiasi cosa io chieda, la risposta è sempre la stessa. 5 minuti. Adesso io dico, no? Adesso io dico, è ora di cambiare. Voglio iniziare anche io a rispondere 5 minuti. Mi amor, non tengo le mutande dentro al cassetto. Eh, mi amor, 5 minuti. Io ando tutto il giorno, senza la mutande, perché i 5 minuti durano i siglos. Capito? Amore, sotto la doccia. È sotto la doccia. Amore, mi passi il bagno schiuma? La mia risposta da oggi sarà 5 minuti. I suoi 5 minuti. Così sta 6 ore, 6 ore sotto la doccia da aspettare che io gli dia il bagno schiuma. Da oggi si cambia.